Giulia Super Buongiorno a tutti, ci troviamo qui alla Pizzazione Retro Un collaudatore sta provando una macchina che ha usato dei prodotti Cormar Vediamo un attimino cosa ci dice, come la trova il motore, come lo trova? Bellissimo, bellissimo, è buono E di suo gradimento? Sì Il titolare della macchina, prego Volevo dirvi che con questi prodotti il motore si trova in ottima forma, reagisce bene, non consuma olio e si viene sempre come una macchina giovane Una macchina di 40 anni qui, e gira come un orologio svizzero, grazie a Cormar La ringraziamo per la testimonianza e invitiamo tutti a comprare dei prodotti Cormar Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti